Il pero, nome botanico Pyrus communis. Ci troviamo di fronte a una pianta allevata a spalliera di circa 4 o 5 anni. Il pero può essere allevato con diverse forme di allevamento, in questo caso abbiamo una spalliera, però potrebbe essere anche un fusetto o una forma a vaso. Il pero è solitamente innestato e il portainnesto è o il franco, cioè su se stesso, o il cotonio che indebolisce la pianta. Come gran parte dei fruttiferi il pero è meglio acquistarlo molto piccolo in modo da poterlo allevare come vogliamo noi e possibilmente a radice nuda, per cui il periodo ideale di piantagione è a riposo vegetativo, cioè da novembre caduta delle foglie, fino alla primavera, cioè fine febbraio, inizio marzo. Come avviene la potatura delle piante appena messe a dimora? Noi compreremo un astone che sarà un ramo unico, allora noi lo taglieremo a circa 80-90 cm e allora dal punto di taglio avremo la formazione di nuovi germogli che costituiranno un'impalcatura o a spagliera o a fusetto o a vaso. La distanza di impianto tra i vari peri è in funzione del portainnesto, con cotonio distanze più ravvicinate, con franco distanze maggiori. Passiamo da circa 1,80-2 m a 3,5 m sulla fila e a circa 3,5-4 m metri tra una fila e l'altra. Il pero, come tutte le pomace, ha gemme miste e gemme a legno. Le gemme miste si trovano sulla cima dei germogli, in questo caso vediamo un brindillo con gemma piccale mista e gemme laterali a legno. Qui vediamo invece una lamburda che ha solo una gemma piccale mista e qui vediamo invece una borsa che indica che c'è stata la produzione l'anno precedente. Nella potatura di produzione dobbiamo favorire brindilli e lamburde, cercando di eliminare i rami malposti, cioè quelli che vanno verso l'alto, i succhioni. E dobbiamo favorire lo sviluppo di branche in modo non verticale. Pali e fili, oltre a sostenere la pianta, sostengono l'eventuale impianto di irrigazione e la rete antigrandine che potremmo mettere in caso di zone soggette a grandine. La pera è un frutto climaterico, vuol dire che matura quando la stacchiamo dalla pianta, perciò maturazione di raccolta non coincide con maturazione di consumo. Questo ci permette di conservarlo per un lungo periodo, come la mela d'altronde. Abbiamo poi diverse varietà, varietà che maturano ad agosto e varietà che maturano più in là nel tempo, fino a ottobre. Partiamo con la William, abbiamo poi la Kaiser, abbiamo la Conference, abbiamo la Passacrasana, abbiamo la Decana del Comizio. Tutte varietà che si possono posizionare in diversi momenti da agosto a fine settembre. Grazie mille! Grazie a tutti